ciao ragazze allora secondo video che giro oggi video del mio cestino dei cosmetici sono abbastanza quindi mi dovevo un po dare una mossa per fare questo video allora parto subito perché non vorrei fosse chilometrico allora bagnoschiuma happiness is al lime e cocco che avevo comprato su machillalia ve l'avevo già fatto vedere allora questo bagnoschiuma è stato il mio top per l'estate un odore davvero fantastico lime e cocco paradisiaco quindi mi sono trovata bene poi per il prezzo che aveva 2 euro e 99 devo dire molto valido credo che l'anno prossimo se lo troverò ancora per l'estate prossima lo acquisterò quindi mi è piaciuto davvero molto poi parliamo sempre d'estate dopo sole allora questo è il latte dopo sole di alchimilla al cocco e monoi allora con questo si vede si vede sì allora con questo dopo sole mi sono trovata anche bene nel senso che era abbastanza rinfrescante lenitivo molto idratante si stendeva abbastanza bene mi è piaciuto devo dire la verità mi è piaciuto davvero molto quindi è un prodotto che ricomprerei tranquillamente l'ho usato per tutta l'estate anche più quindi l'ho terminato da poco l'ho continuato comunque ad utilizzare quindi mi è piaciuto questo di alchimilla poi sempre solari questa crema viso della bio solis col spf 30 allora questa era in una glossy box l'ho usata sia l'estate scorsa che questa di quest'anno quindi non è terminata in realtà in realtà in realtà ce n'è ancora un bel po però siccome poi scade quindi la getto via purtroppo la cosa diciamo brutta almeno a me capita spesso che le creme viso le creme solari viso non riesco mai a terminarle in due nonostante le usi per due anni perché comunque hanno una scadenza di 24 mesi non riesco comunque a terminarle però questa purtroppo devo gettarla via e comunque mi è piaciuta è stata davvero valida non mi ha mai dato problemi sul viso non mi sono mai scottata quindi comunque è stata buona stata davvero valida poi il prodotto che ho terminato proprio poco fa questo crema detergente da massaggio dell'erbolario all'olio di argan allora mi è piaciuta davvero tanto come crema detergente non fa tanta schiuma sul viso a me non piacciono quei detergenti troppo schiumosi più levicatezza più freschezza devo dire che leviga davvero la pelle io l'ho usata mi è piaciuta davvero tanto devo dire la verità quindi lo ricomprerei questo qua era un campione tra l'altro quindi lo ricomprerei tranquillamente poi altra cosa che mi è piaciuta e la ricomprerò a breve sto terminando altre di brochet questa crema viso notte la elisir 7.9 allora questa è la linea che in assoluto mi piace di più di brochet ne ho utilizzate altre ma per la mia pelle non andavano bene questa è davvero una crema valida non è troppo corposa troppo pesante sul viso perché a me se troppo pesante sul viso non mi piace quindi questa è leggera ma comunque davvero davvero valida mi è il viso la mattina molto riposato bello fresco bello luminoso invece altre creme lo rendevano diciamo un po grigio un po pesante quindi questo questa mi è piaciuta e la riprenderò a breve anche quella giorno voglio voglio prendere voglio provare poi mattoncino buffer questo di clarissa nails credo sia non mi è nulla quindi l'oggetto via struccante struccante tonico express di clarence questa è una mini italia allora questo mi è piaciuto strucca abbastanza bene il viso è leggermente oleoso a me non piacciono molto gli struccanti oleosi però a primo impatto lascia la pelle con questo velo di di olio diciamo però poi si asciuga quindi la pelle ritorna normale si asciuga e devo dire che mi è piaciuto non rimane oleosa la pelle che a me quella cosa non piace quindi lo potrei anche acquistare adesso ne sto usando un'altra perché io struccanti viso cambio sempre voglio sempre trovare uno che davvero mi piace fino ad ora sì mi sono piaciuti però continuo comunque a cambiare deodorante sempre glossy box ancora rimanenze di glossy box non ne posso più questo roll on roll on profumazione molto neutra però mi lasciava la patina bianca sotto l'ascella quindi era inguardabile l'inverno sono riuscita ad utilizzarla l'inverno scorso però l'estate no c'è non si poteva guardare la l'alone diciamo bianco la patina bianca sotto l'ascella proprio brutta quindi zero non so neanche di che marca è skin lermo le 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 lermo rassul un'attivezza comunque non mi è piaciuto affatto queste salviettine struccanti di garnier fresh essential allora a me sinceramente le salviettine per struccarmi non mi piacciono queste le avevo acquistate perché magari mi potevano servire per per urgenza per emergenza l'unica cosa che mi è piaciuta è che comunque essendo fresh essendo fresh belle fresche mi rinfrescavo il viso però a me non piacciono come struccante le salviettine quindi buone però in base poi uno all'utilizzo che ne fa poi bagno schiuma ivroché mango e passion fruit questo è stato l'altro che ho usato quest'estate anche questo mi è piaciuto questa in edizione limitata quindi non si trova più purtroppo però è sta è una fragranza estiva fantastica quindi questo con l'altro bagno schiuma sono stati i miei top di mi top sotto la doccia quindi valido poi sempre ivroché crema gambe allora questa qua crema gambe perché perché è la crema per le gambe pesanti questa fa l'effetto fresco e lo fa davvero perché se io avevo le gambe pesanti un po stanche veramente mi rinvigoriva le gambe nel senso me le sentivo belle fresche e quindi quella leggera quella leggera diciamo stanchezza mi passava poi l'estate questo effetto fresco ancora meglio ne ho già un'altra che sto comunque usando quindi io ve la consiglio ve la consiglio veramente tanto questa crema è veramente valida si chiama sauce gambe gambe pesanti quindi valida poi leo crema cell active crema anticellulite devo dire che si mi è piaciuta però in realtà non sono stata molto assidua quindi non ho visto grandi miglioramenti con questa crema qui mi piaceva comunque l'odore la texture si stendeva davvero bene era davvero piacevole stenderla però non lo so non ho visto nessun effetto invece adesso ne sto utilizzando un'altra di brusche che mi sta piacendo perché sto vedendo dei miglioramenti io non ho grandi problemi di cellulite però si inizia intravedere diciamo qualche difettuccio perché è così ragazze quindi meglio prevenire ovviamente che curare e quella crema mi sta dando davvero delle soddisfazioni quando la finirò vi saprò dire bene ve ne parlerò in maniera dettagliata quindi questa non mi entusiasmato più di tanto come crema anticellulite poi il brusche crema mani questa è la crema mani bio al miele molto nutriente mi è piaciuta e ne ho già un'altra che sto utilizzando nutriente non lascia le mani le mani oleose si assorbe in fretta e devo dire che va benissimo per chi ha la pelle delle mani molto secca è molto molto nutriente quindi ve la consiglio questa qui costa davvero pochissimo poi contorno occhi sempre di brusche sarò monotona non lo so io comunque provo molto i brusche e tante altre cose dicevo crema occhi questa è la linea che si è cancellata la scritta anti age global allora questa è una delle linee di brusche che sinceramente per la mia pelle non va bene nel senso che troppo 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 corposa per la mia pelle io avendo comunque una pelle mista mista grassa le creme troppo corpose non vanno bene quindi comunque l'ho utilizzato però con l'altra linea che vi ho detto la laser punto 7.9 mi sto trovando meglio di questa quindi per me non è andato bene come prodotto contorno occhi nel senso che mi sto trovando meglio con l'altro che poi vi dirò vi farò vedere però magari per chi ha magari la pelle un po più secca che ha bisogno più di dilatazione questo può andare meglio a me io non lo comprerei di nuovo però magari qualcun altro sì poi penna penna remover della essence quella con l'acetona era davvero vecchissima vedete vale buona sì queste cose sono molto buone di essence poi sempre unghie base indurente di debbi questa mi è piaciuta molto questa base indurente di debbi è stata molto valida non non mi faceva scheggiare diciamo le unghie davvero è stata davvero valida ne era rimasta un po però ovviamente non riesco a prele a prelevarla quindi se sì io sto in alto ma non si vede niente se la trovate prendetela perché mi è davvero piaciuta poi questo ultras scusate ragazze ma avevo la memoria piena ho dovuto cambiare allora essence ultra strong questa è una base una base che dovi sempre indurente però sinceramente non mi è piaciuta affatto perché non mi faceva da niente quindi non so se sia ancora in vendita però a me non è piaciuta poi avevo nel fondo dei miei cassetti di makeup ancora questo qui il primer potion urban decay ancora nel packaging vecchio quindi è vecchissimo era finito ne era rimasto un po io lo dovevo aprire spaccare eccetera però ormai si è seccato quel pochetto che era rimasto quindi sapete primer potion base occhi valida poi 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 questo campioncino di alchemilla della crema corpo aloe e calendula sì mi è piaciuta nulla di che è una semplice crema corpo pastiglia di sefora al cocco io queste pastiglie non le uso per fare il bagno anche se sono per fare il bagno perché comunque non posso non la vasca in bagno però le uso per fare il pedicure metto i piedi a mollo metto questa pastiglia per dare un po un bel profumo per profumare un po l'acqua quindi sono sono valide sono buone poi ultime due cose mascara ivroché questo è il 360 gradi lunghezza lunghezza si lunghezza allora è stato un buon mascara l'unica cosa che comunque ha lo scovolino praticamente come il del real di benefit a me quel mascara mi piace e anche questo mi è piaciuto però comunque ha questo scovolino con queste setole così dure che se vai a sbagliare ti fai anche male l'occhio quindi è quella cosa un po fastidiosa però come effetto di mascara mi è piaciuto davvero tanto bello allunga le ciglia e le definisce abbastanza bene ultima cosa è un prodotto avon io avon non la compro da una vita perché non mi piace come marchio i prodotti secondo me non sono validi forse qualcosa sì non lo so però tempo fa una mia amica vendeva questi prodotti e io ogni tanto compravo qualcosa e avevo sempre conservato nel mio cassetto fatto un po di repulisti avevo queste perle perle tipo abbronzata perle per il viso insomma per fare con touring per dare un effetto abbronzato al viso le usate molto l'estate sono molto utilizzate le usate tantissimo anche se le perle secondo me non si finiscono mai sono infinite la butto via lo butto via perché sinceramente hanno un cattivo odore quindi sono vecchissime però quando le ho utilizzate mi sono mi sono comunque piaciute come come perle non erano male facevano il loro dovere insomma però non non so se ne fanno ancora comunque avon a me non mi piace molto quindi non le ricomprerei niente può essere il mio ultimo prodotto ho finito voilà e niente vi saluto vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video ciao